E bentornati in questo nuovo podcast, oggi ci farà compagnia la storia di Margot Robbie, nata a Dalby in Australia nel Queensland il 2 luglio 1990, un'attrice giovanissima, già anche produttrice cinematografica di origini australiane. Ha iniziato la sua carriera in una serie tv, una soppopera più che altro tra il 2008 e il 2011, anche se inizialmente aveva preso parte quando iniziò la sua carriera precedentemente al 2008 a film indipendenti australiani, quindi a origine lì il suo modus operandi, la sua voglia di recitare, proprio nei luoghi in cui è nata. Ma è divenuta famosissima al pubblico internazionale per un'interpretazione in particolare, perché interpretava Naomi, la protagonista femminile in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. La sua interpretazione è ottima, eccezionale e di una sensualità spaventosa. È fruttuoso anche il modo di giocare coi colori che fa Martin Scorsese. Ricordo una scena in particolare quando, diciamo così, inizia a deteriorarsi il rapporto con il personaggio maschile, con il lupo di Wall Street interpretato da Leonardo DiCaprio, e sono in quella stanzetta dove i colori rosa e il suo abito ci mostrano una sensualità che va oltre la semplice immaginazione che solitamente ci accompagna. E quindi è lì che noi conosciamo Margot Robbie, ma le sue interpretazioni sono state diverse negli ultimi anni. Proprio con Suite Francais, dove di Saul Dibb, che è un cui conosce il suo compagno, poi c'è un film bellissimo con Will Smith, forse eccessivamente drammatico sotto certi aspetti, ma l'interpretazione di Margot Robbie impegna notevolmente lo spettatore e ci concede, diciamo così, tutta la sua attenzione. È difficile non concedere attenzione, parlo soprattutto per il pubblico maschile, a Margot Robbie, perché riesce a portarti dentro la pellicola attraverso anche solo la sua sensualità. Dopo Focus, niente come sembra, che è un film del 2015 a fianco di Will Smith, la vedremo anche con la regia di Adam McKay, che sta preparando un film anche con Leonardo DiCaprio, che uscirà su Netflix nel 2021, e ha un cameo nella grande scommessa. Con David Yates, famosissimo regista di tutti i film di Harry Potter, a partire dal quinto in poi, e i primi due della saga di Animali Fantastici, che chissà quando proseguiranno, perché la situazione è veramente deleteria sotto questo aspetto, tra licenziamenti, tra riprese rinviate, veramente sta passando un'eternità. C'è The Legend of Tarzan del 2016, proprio con questo regista. Diventa famosa, diciamo così, allarga la sua popolarità quando interpreta il personaggio di Harley Quinn in Suicide Squad, sempre nel 2016. E qui l'interpretazione nettamente sopra le righe, il film non ha avuto un buon successo per quanto riguardava la critica, ed è stato poco osannato. Nonostante ciò, quando il cast sicuramente cambierà, perché ci sono già Red Leto, anche Will Smith, proprio all'interno di questo film, non trascina. Tant'è vero che è stata affidata per il 2021 la regia a James Gunn, che è il regista dei Guardiani della Galassia, molto probabilmente per dare un'accezione diversa a questa pellicola e poterla migliorare sotto diversi aspetti. Vi presento Christopher Robin, film della Disney, dove c'è Christopher Robin cresciuto, interpretato da Ewan McGregor, con la regia di Simon Curtis, del 2017. Ma poi abbiamo soprattutto la sua interpretazione di questo film, che io non ho visto, un film biografico, dove interpreta Tonia. Tonia era una campionessa di pattinaggio su ghiaccio e lei interpreta proprio il personaggio stesso, un personaggio storico, e sarà questo film che le consentirà di essere candidata al premio Oscar proprio nel medesimo anno, ovvero il 2017. Quindi appena tre anni fa, o quattro anni fa, certo, perché siamo nel 2021. Poi la vediamo anche in un altro film biografico che interpreta la regina di Scozia, Maria Regina di Scozia, con la regia di Josie Rourke, quindi ha avuto tantissimi ruoli già da protagonista. Ricordiamo che Margot Robbie è nata nel 1990, quindi le sue esperienze sono maturate per lo più con grandi registi che l'hanno guidata e diretta. È una interpretazione che, di un film che a me piace molto, ma ripeto, ne parlavamo quando abbiamo parlato nel podcast di Leonardo DiCaprio, è C'era una volta a Hollywood, con la regia di Quentin Tarantino, un film che, ripeto, come dicevo nel podcast precedente, per chi volesse saperne di più può andare a recuperare quello di lì, con Leonardo DiCaprio, un film che può piacere e può non piacere. L'interpretazione però di Margot Robbie, che interpreta Sharon Tate, che è stata storicamente uccisa da degli hippie partenenti, diciamo così, alla loro ala estremista, Sharon Tate, che era la moglie di Roman Polanski, diciamo così, lei si fa guidare anche qui visivamente più che dalla recitazione all'interno della pellicola, ma non impone mai la sua parola, forse definitivamente proprio all'interno di questa interpretazione. La rivediamo in Dreamland del 2019 e in Bombshell, che vi ricorderete ne abbiamo parlato qualche podcast fa, perché i film prima o poi ritornano, come abbiamo visto esattamente perché c'era una volta a Hollywood, perché bisogna conoscere bene la pellicola per poi affrontarla dignitosamente. e Margot Robbie in Bombshell è una bomba, non solo sexy, ma assolutamente dal punto di vista recitativo. Nel 2020 è tornata al cinema, anche se credo che questo film non sia riuscito a uscire nelle sale, ed è Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. E qui riprende di nuovo i panni di Harley Quinn, questo modo di operare veramente sempre sopra le righe e di cui anche produttrice. È produttrice non solo di questo film, ma anche del film biografico Tonya. Ha doppiato anche per la serie dei cartoni animati, la serie di Peter Rabbit, Peter Rabbit 1 e Peter Rabbit 2. Ha ricevuto la candidatura come miglioratrice protagonista, come dicevamo per Tonya, ma anche la miglioratrice non protagonista e qui sottolineiamo ancora una volta la sua bravura interpretativa, dove sicuramente Sharon Tate non è stata valorizzata per come si deve, ma lì c'è un problema forse di sceneggiatura per ciò che concerne quel personaggio, quindi andrebbe rivista sotto questi aspetti. Margot Robbie è un'attrice che si è fatta largo da sola praticamente con il tempo e sicuramente, non dobbiamo nascondercelo, la sua bellezza ha sicuramente aiutato. Dicevamo che è nata in Australia per sapere un po' qualcosa sulla sua vita, dove trascorre praticamente l'infanzia nella città invece di Gold Coast, dove si trasferisce e cresce con la madre, che è Sari Kessler, una fisioterapista, e i suoi due fratelli e una sorella. Invece il padre, che era separato dalla madre, era al tempo proprietario di una fattoria, quindi origini, diciamo così, anche molto umili per quanto riguarda l'attrice australiana. Margot praticamente cresce all'interno di un'azienda agricola e passa la maggior parte del tempo con i suoi nonni, quindi cresciuto sotto questo aspetto, da persone anziane, quindi magari riadattandosi bene al concetto di umiltà di cui poco fa citavamo, che abbiamo citato praticamente poco fa. Robby di fatto sempre ha avuto legami con il padre, ha avuto pochi legami con il padre a causa della separazione e in un'intervista quando la fece a Vogue disse che da giovane voleva diventare famosa. Solitamente quando si insegue questo mestiere l'ultima cosa da pensare è diventare famosa, però negli occhi di un bambino diventare famosi e farsi conoscere dal mondo intero, forse non è poi così male. Ha frequentato una scuola per ragazzi abbastanza benestanti, nonostante queste origini umili, aveva compreso cosa significava essere ricchi e di conseguenza apprese anche ciò che avrebbe voluto fare nella vita. L'umiltà sì, l'aveva, ma sicuramente voleva anche crescere e sapere cosa significava avere tanti soldi. Solo all'età di 15 anni però Margot Robbie iniziò a nutrire interesse nei confronti del mondo cinematografico. Diciamo che da bambini è un sogno ricorrente quello di essere ricchi, avere tanti soldi, avere tutti i giocattoli che si vogliono e fare quello che si pare, ma il sogno lo inizia a inseguire solo all'età di 15 anni. Dopo aver visto una ragazza della sua età recitare una scena in televisione, giudicandola non talentuosa, anche qui Margot Robbie si reputa diciamo così altezzosa, altro che che umile, pensò addirittura di poter fare meglio e una fan della cultura pop americana studiò i caratteri popolari dell'America fin dall'infanzia, notando e apprezzando le diversità culturali fra i popoli. Nel 2007 si diploma al Somerset College di Gold Coast e la sua prima produzione ufficiale è Neighbors nel 2008, quindi una carriera che è partita come un fulmine a lampo, Robbie inizia a studiare legge ma non volendo intraprendere la carriera forense preferisce fermarsi e trovare ancora dei piccoli lavoro per essere in grado di permettersi il viaggio e il mantenimento ad Hollywood, perché già nel 2008 si reca lì, a 17 anni decide di trasferirsi poi a Melbourne per proseguire la sua carriera recitativa e poi da lì vediamo come vi sia praticamente un modo di entrare prorompente dell'attrice, aiutata ripeto sicuramente dalla sua bellezza enorme perché è favolosa da vedere Margot Robbie, sia fisicamente ma anche recitativamente parlando non è mai stata inferiore a nessuno e dopo aver vissuto diversi anni a New York, dopo che si era trasferita a Melbourne e si è trasferita poi ad Hollywood e infine a New York, dal maggio 2014 Margot Robbie invece comincia a vivere a Londra a seguito della sua relazione con l'aiuto regista britannico Tom Herkley che aveva conosciuto proprio in un film di cui parlavamo precedente che è Sweet Français. I due si sono sposati il 18 dicembre 2016 a Barron Bay in Australia. Questa è più o meno Margot Robbie anche se io ho puntellato quella, quello che può essere e che è stata nel corso del tempo, sicuramente Margot Robbie ha ancora margini di crescita strepitosi, ripetiamo, è un'attrice del 1990, forse meglio di lei ha fatto solamente Jennifer Lawrence in questo momento protagonista assoluta della scena dei ragazzini, dei ragazzi del 1990, ma Margot Robbie non è da meno. Tra l'altro sono curioso di vederla in questa nuova Harley Quinn, stavolta diretta da James Gunn che è un regista importantissimo soprattutto per quello che riguarda le commedie. Margot Robbie è bellissima, bravissima e tenace, proprio quella tenace che partendo dall'umiltà della fattoria del padre e questo rapporto scontroso poi l'ha portata invece ad essere una delle stelle che già brillano nel firmamento hollywoodiano.